Siamo con Luigi Marinetto, Assessore della Provincia di Asti al Turismo. Voi per la prima volta quest'anno avete inaugurato questo progetto di comunicazione sulle fere del tartufo. Come mai avete scelto questa formula? Beh, innanzitutto perché abbiamo ritenuto che l'Unione fa la forza, nel senso che tutte le leggi alle fiere, parlo delle più importanti, quindi quelle nazionali, due nazionali e le tre regionali, avrebbero dovuto con le loro forze fare una campagna promozionale e ovviamente con i tempi in cui viviamo di ristrettezza economica non avrebbero avuto la forza per avere un'azione incisiva, così come è stata fatta su dei quotidiani a livello nazionale, che ovviamente sono usciti fuori dalla nostra provincia. Questo era il nostro scopo principale, quello di uscire dai nostri confini per raggiungere una parte di territorio che forse a noi, sì, vicino, e parlo di Milano, Genova, è una parte della Valle d'Aosta, in modo che, diciamo, in quelle due rette di automobile, ecco, in modo che, insomma, di poter raccogliere un consenso da parte di chi è nei nostri territori, però non li conosce ancora come meriterebbero. Ecco, Assessore, le fiere, adesso siamo quasi a metà, diciamo così, del percorso e le fiere del Tartufo in provincia di Asti stanno, nonostante tutto, nonostante il maltempo, nonostante la crisi economica, stanno comunque riscuotendo un successo, un interesse interessante e positivo. Da che cosa è dovuto, secondo lei, questo successo che rimane? Beh, io credo che il grande lavoro che hanno fatto in passato i comuni, che il Proloquo, adesso ho gli enti manifestazioni, dei comuni che già avevano organizzato queste, nel passato, abbiamo delle rassegne che sono di 30-40 anni, quindi storiche, quindi questo grande lavoro oggi ovviamente viene pagato, perché non è tanto la fiera del Tartufo di per sé, cioè la presentazione di questo prodotto, che ovviamente qualcuno dice che essendo un prodotto di elite non è un prodotto proprio popolare, e qui è vero, però consideriamo che durante la fiera del Tartufo chi lavora bene, e le nostre fiere lo fanno, sanno valorizzare anche tutto il resto dei prodotti, quindi non è necessario andare alla fiera del Tartufo per acquistare solo il Tartufo, ma abbiamo tutti i nostri prodotti che sono ovviamente per tutte le tasche, che possono essere tranquillamente acquistati, e questo è successo a Montiglio, è successo a Moncalvo, dove ci sono due conformazioni diverse di paesi, una era più sull'un, l'altra era più raggruppata nelle piazze, però si è assistito a delle barahonde di persone che insomma erano considerevoli, e queste ovviamente hanno portato ricchezze d'economia, senza magari acquistare i tartufi, però sono stati frequentati i ristoranti, mi auguro anche parecchi alberghi, oppure comunque le strutture ricettive, e ho visto che tutte le bancarelle di affari penso ne abbiano fatte, purtroppo le ultime due, quella di San Damiano e quella di Moncalvo, siamo capitati in un periodo alluvionale, quindi di Montechiara, e purtroppo siamo in un periodo in cui il tempo non ha accompagnato per nulla, anzi c'erano gli ordini da parte dell'autorità, se è possibile di stare a casa, e quindi questo ha compromesso un po' la grande partecipazione, però come fiere sono state organizzate in un modo ottimale e hanno avuto un successo, doveva essere un successo che era spalmato su una o più giornate, come nel caso di San Damiano, si è risolto tutto nelle 3-4 ore, è stato un peccato, però nello stesso tempo si è dimostrato che anche una fiera come quella di San Damiano, che è del primo anno che è regionale, che l'organizzazione è stata quella che meritava, quindi è proprio per questo, se si organizzano le cose fatte bene e che hanno un certo appeal, ovviamente la gente ritorna, e la nostra azione pubblicitaria è fatta anche in modo che arrivassero tante persone nuove. Senti Assessore, lei giustamente ha parlato di territorio e è impossibile non parlare di questo progetto di candidatura UNESCO, che è molto legato al territorio, alle eccellenze del territorio, e un po' diciamo così alla missione del suo assessorato. Che ruolo hanno le fiere del Tartufo, secondo lei, nel quadro di questo mosaico della candidatura UNESCO? Io penso che debbano giocare un ruolo molto importante, anche perché i nostri paesaggi vitivinicoli che sono candidati all'UNESCO sono delle province di Asti, Cuneo e Alessandria, e sono anche le tre province a vocazione tartufigena più importanti. E quindi penso che questo è stato il primo anno, quindi abbiamo dovuto limitare un po' il nostro campo d'azione alle fiere nostre, però non è detto che il prossimo anno non ci si possa allargare, ma che questa è un'idea anche del Presidente delle strade del Tartufo, che sta anche attraversando un momento di difficoltà, però in questo anno dovremo lavorare in questo senso, secondo me, cioè dare più importanza a quelle che sono le strade del Tartufo, con un maggior impegno da parte degli amministratori di questa associazione, di modo che vengono coinvolte tutte e tre le province. E qui rientriamo bellamente nel progetto UNESCO, perché ovviamente i nostri paesaggi sono incantevoli, inimitabili, e tutto quello che si vuole, però abbiamo anche altre cose, quindi il progetto UNESCO è un... i paesaggi ai vitivinicoli sono, direi un pretesto è poco, però abbiamo tutto il resto dell'indotto che deve essere valorizzato. il Tartufo, poi abbiamo già una struttura che può occuparsene, dovremmo dare forza a questa struttura, crederci, e vedere magari la promozione, perché il prossimo anno non si può fare come territorio UNESCO, invece che limitarlo alla provincia di Asti. Allora, Assessore, le faccio la domanda secca, una risposta secca ce la facciamo? Certo che dobbiamo farcela, mica stiamo qui a scherzare, ormai siamo partiti, siamo partiti alla grande, con l'impegno di tutti, perché non dimentichiamo gli sforzi che hanno fatto anche l'ATL, ad esempio, di Asti, quindi magari c'è da coinvolgere anche le altre realtà delle altre province, e insomma bisogna lavorare in questo senso, anche perché se noi, grazie ai nostri contributi, ai contributi dell'ATL, della Camera dei Commerci, dei Comuni che sono interessati, abbiamo raccolto una cifra che ci ha permesso di fare un programma serio e anche abbastanza completo, figuriamoci la forza di impatto che potrebbe avere se tre province fossero coinvolte, insomma ce n'è per tutti, bisogna crederci e lavorare per quello. Grazie.